Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con AC News, il notiziario di Arezzo Channel che vi permette di restare sempre aggiornati sulle vicende e sui campionati dell'Arezzo Calcio. Inizia il conto alla rovescia per la gara che domenica pomeriggio alle ore 16.30 vedrà l'Arezzo di Mister Dalcanto scendere in campo contro la capolista Piacenza allo stadio Garilli. Si tratta del secondo big match ai piani alti che l'Arezzo disputerà e che aprirà poi la strada al terribile dicembre che attende le squadre di Serie C con importanti tour de force. La Lega Pro e l'AIA hanno intanto divulgato le terne arbitrali per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Ad arbitrare Piacenza a Arezzo sarà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dal signor Massimiliano Magri di Imperia. Della sezione di Savona invece il secondo assistente, il signor Giulio Fantino. Si sono aperte ieri le prevendite per la trasferta di Piacenza con molti tifosi che già stanno preparando il viaggio per una delle gare più sentite della stagione. La società Piacenza Calcio comunica le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per il settore riservato ai tifosi ospiti. I biglietti sono disponibili online sul sito www.vivaticket.it fino alle 19 di sabato 24 novembre. All'ingresso sarà ovviamente sufficiente presentare la stampa del biglietto contenente il codice a barre stampato anche su carta semplice. Per questa partita ricordiamo inoltre che il GOS ha autorizzato la vendita dei biglietti per il settore ospite per tutti i residenti della regione toscana senza l'obbligo di Fidelity Card. Il prezzo del biglietto del settore ospiti è di 10 euro escluso i diritti di prevendita. Sarà poi possibile trovare maggiori informazioni sulle indicazioni stradali sul sito della società sportiva Arezzo. Sarà possibile infatti raggiungere lo stadio prendendo l'uscita autostradale Piacenza Sud. Proseguono intanto a ritmi serrati gli allenamenti in vista della trasferta di domenica contro la Capolista. In programma per oggi la consueta doppia seduta infrasettimanale. Gli Amaranto si sono allenati stamattina al Mario Lebole alle ore 10 e nel pomeriggio riprenderanno i lavori alle ore 14.30 sempre al Mario Lebole dell'antistadio. Per domani allenamento pomeridiano mentre sabato 24 novembre in programma la rifinitura ovviamente a porte chiuse alle ore 10 e poi a seguire la partenza per la trasferta di Piacenza. Andiamo adesso a vedere quali sono stati i risultati nei recuperi di ieri. Si è recuperato infatti nella giornata di ieri il terzo turno di campionato di Serie C. Abbiamo Arzachena-Novara che finisce 0-2 colpo esterno del Novara che sbanca contro l'Arzachena 2-0 il finale. Golli in 4 minuti di Bianchi e Deusepi. I piemontesi quindi risalgono in graduatoria e hanno ancora due partite da recuperare. Pro Patria-Siena finisce con un pareggio 1-1. I bianconeri avanti con Russo e poi pareggio di Gucci. Pro Vercelli-Alessandri anche qui un pareggio 1-1. Santini su rigore porta in vantaggio i grigi e poi Morra agguanta il pareggio. Virtus Entella-Olbia finisce invece 3-2. La Virtus Entella prosegue quindi la sua cavalcata in classifica. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Chiavari che resta a punteggio pieno. Liguri avanti con Eramo e poi raggiunti da Ogunsei a inizio ripresa. A mettere al sicuro il risultato le reti poi di Dio e Mota prima della seconda rete di Ugunsei. Allentella deve inoltre recuperare altre 6 gare. Diamo quindi un rapido sguardo anche alla classifica. Troviamo il Piacenza sempre in vetta con 22 punti. Arezzo e Carrarese a 21. Virtus Entella sale a 18 in condivisione con Pro Vercelli e Pisa. Gozzano e Propatria quota a 14. 13 punti per Novara, Pontedera e Alessandria. A 12 troviamo il Filotto composto da Propiacenza, Cuneo, Siena e Dolbia. 11 punti per la Juventus Sander 23. A 10 la Pistoiese. 8 punti per Arzachene e Albissola. Poi Fanalino di coda 5 punti la Lucchese. Continua inoltre il Tour de Force dei Recuperi che continuerà la prossima settimana. Mercoledì prossimo, il 28 novembre, sono infatti già in calendario i recuperi della prima e della quarta giornata. Avremo in campo Cuneo, Virtus Entella alle ore 14.30, così come Pro Piacenza Siena. In orario serale alle 20.30 andranno invece in scena Pontedera, Novara e Pro Vercelli, Piacenza. Termina qui la prima parte di AC News. Noi ci vediamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, con un ospite per parlare ancora meglio del posticipo di lunedì sera contro la Carrarese e poi proiettarci verso la trasferta di Piacenza. A tra poco. Grazie a tutti.